Buongiorno, sono Carlo Cuppini. Quest'anno faccio parte della giuria del premio Un Prato di Fiabe, un premio dedicato a scrittori di fiabe e a illustratori. Voglio dedicare una lettura dal mio libro Il mistero delle meraviglie scomparse a tutte le amiche, gli amici e i partecipanti di questo premio. Leggo un pezzo del capitolo Il Gran Consiglio dei Fiumi e dei Mari. Percorsero il tunnel senza parlare. Le due creature d'acqua davanti, Filippo e Francesca, che non sapevano se essere più curiosi o più spaventati, subito dietro. Al termine della discesa si ritrovarono affacciati su un gigantesco antro scavato nella roccia, illuminato fiocamente da una luminescenza che non si capiva da dove venisse. Il soffitto non si vedeva, perso nell'oscurità sopra le loro teste. Doveva essere altissimo. Lo spirito delle acque alzò una mano per dire di restare fermo e non parlare. Il silenzio era interrotto solo dal suono delle gocce che cadevano di tanto in tanto dalle rocce. All'improvviso un voato fece tremare le pareti della grotta, come se milioni di rubinetti fossero stati aperti tutti insieme. Qualcosa iniziò a scintillare sul fondo della caverna. L'acqua, che sgorgava chissà da dove, stava formando un lago sotterraneo. Filippo e Francesca trattenevano il respiro con gli occhi sgranati. Si presero per mano e restarono ad ascoltare il suono scrosciante, mentre il livello dell'acqua sotto di loro si alzava. Ho un po' di paura, sussurrò Filippo. Anch'io, ma dobbiamo avere fiducia. Però ti prego, qualunque cosa succeda, tieni la bocca chiusa. Un bagliore, azzurro, divampò al centro della caverna. Schizzò verso l'alto ed esplosa in mille zampilli come un fuoco d'artificio acquatico. Migliaia di lapilli bluastri restarono sospesi nell'aria e illuminarono l'antro. Una folla di creature maestose, trasparenti e sgocciolanti apparve. E quelli chi sono? balbettò Francesca. Ecco il mar Tirreno laggiù, a sinistra, spiegò lo spirito delle acque parlando sottovoce. A quanto pare c'entra qualcosa anche lui. Poi il mare Adriatico e il mare Ionio. Davanti a quello spuntone di roccia ci sono il mar morto, il mar nero e il mar rosso. Laggiù indisparte il mare del nord, da quella parte gli oceani, l'Atlantico, il Pacifico e quello indiano. Guardate, stanno arrivando i fiumi, il Po, il Tevere, che nasce su queste montagne come l'Arno, però va a finire a Roma, e il Danubio che attraversa mezza Europa. Dietro di loro i quattro più grandi, il Nilo, il Mekong, il rio delle Amazzoni, il fiume azzurro. E qua, proprio sotto di noi, ci sono i laggi, Vittoria, Loch Ness, Baikal, il lago d'Orta. Il suono dell'acqua si affievò lì fino a cessare. Dovevano essere arrivati tutti. Una voce possente risuonò facendo vibrare le pareti della caverna. Colui che ha convocato il gran consiglio, parli, spieghi il motivo di questa riunione improvvisa. Lo spirito delle acque fece un passo avanti, e la sua solenne trasparenza cominciò a emanare una luce fortissima, azzurra e argentea. Un brusio serpeggiò fra tutte le creature d'acqua. La voce possente e cheggiò di nuovo. Parla dunque, spirito delle acque. Salute a te, spirito della terra, e a tutti voi fiumi, mari e laghi, disse lo spirito delle acque. Salute a te, nonno, risposero all'unisono migliaia di voci facendo sussultare i due bambini. Una creatura che è qui presente ha combinato un guaio che rischia di costare caro agli umani, e non solo a loro. Non ha agito per cattiveria, ma per incoscienza, e alcuni tra voi hanno collaborato con lui, peggiorando la situazione. Adesso il mondo è in pericolo, è necessario porre rimedio. Un saluto, buona estate e buone fiabe a tutti. Ciao!